Ebbene carissimi amici, ben ritrovati qui sul mio canale YouTube. Una buona giornata a tutti voi. Quest'oggi vado a ripercorrere quelle che sono state le ultime vincite di un metodo favoloso, di un mio studio pazzesco, che è idea vincente. Quanti di voi si sono portati a casa, hanno toccato con mano l'ambo secco a colpo secco? Quanti di voi hanno stravinto con questo metodo? Quando l'ho presentato quest'anno abbiamo subito stravinto alla grande, stiamo continuando a stravincere. Quindi invito tutti voi a prendere la previsione in modalità vincita venuta, cioè più di questo. Vi do la giocata gratuitamente, vi faccio pagare solo alla vincita dell'ambo. Penso che è una cosa che non fa nessuno. Farvi toccare delle vincite con mano, delle vincite a colpo di questo calibro, con soli due ambisecchi su tre ruote, nuova previsione dopo ogni estrazione, pagamento alla vincita. Su questo dovete riflettere, cari 10. Questo è un metodo pazzesco. 15 aprile 5,90, Bari. 11 maggio 66,71, Cagliari. 17 giugno 12,17, Cagliari. C'è stato un solo negativo quello di luglio, il mese di agosto ha pagato all'ultimissima estrazione. 16 a 9 sulla ruota di Bari. Quindi parliamo di 4 ambisecchi aprile, maggio, giugno e agosto. 4 ambi su 5 mesi di gioco. Tutti vinti a colpo. Questa non è una giocata che ho dato all'inizio del mese e l'abbiamo portata avanti. Queste sono giocate che sono cambiate ad ogni estrazione. Io la davo l'estrazione prima per l'estrazione dopo. Non esiste in giro un prodotto del genere. Non esiste nessuno che vi dà due ambi a colpo con una nuova previsione dopo ogni estrazione. Per di più ve la dà a vincita venuta. Non esiste da nessuna parte perché non c'è nessuno in grado di proporre un prodotto del genere con due ambi a colpo secco e poi veramente l'ambo lo vedete uscire a ruota e lo andate a vincere. Questo è un prodotto unico nel suo genere, un'elaborazione dove non ci arriverà mai nessuno perché è un'elaborazione creata dal sottoscritto che esce totalmente fuori dai canoni e dalle elaborazioni dell'otto. È una creazione che prende spunto da un altro tipo di studio. Quindi è un lavoro dove non ci arriverà mai nessuno. È portare delle vincite del genere, di cui l'ultima è il 16-19 a Bari, il primo settembre. Portare delle vincite del genere a ruota secca e a colpo secco e addirittura a far pagare dopo la gente, dopo la vincita. Cioè io ti dico questa è la previsione che per ogni estrazione mi devi giocare. Andrei a pagare soltanto se uscirà l'ambo. Questa è la chiarezza che ci deve essere, questa è la trasparenza che ci deve essere, questa è la serietà, questa è la professionalità. Se hai dei prodotti validi, se hai dei prodotti buoni, questo è quello che devi fare. Perché questo è un prodotto, è un metodo favoloso. Vincere a colpo con soli due ambi è di una difficoltà immensa, ma già lambata. Già lambata è difficile. Dare una previsione alle estrazioni prima e vedere anche lambata alle estrazioni dopo già è difficile. Figuratevi l'ambo, figuratevi quante combinazioni ci sono tra i 90 numeri. Io vedo soltanto due ambi. E siamo andati a sbancare alla grandissima. Sono mesi, mesi e mesi che l'idea vincente stravince e sbanca ruota secca. Quindi vi invito calorosamente e caldamente a non lasciarvi sfuggire questa previsione. Perché io per ogni estrazione darò i due ambi. Non mancherà ancora l'occasione che io verrò qui a portarvi i cedolini vincenti. perché questo è un metodo che tanti fedelissimi hanno seguito, tanti stupidamente hanno abbandonato perché non hanno costanza, non hanno fiducia, non sanno giocare. E hanno abbandonato la previsione, puntualmente è uscita la vincita, hanno perso i soldi dell'investimento, hanno mollato e hanno perso pure la vincita. Bisogna che impariamo a giocare all'otto. Costanza nel gioco, fiducia nelle previsioni, fiducia nei metodi. Perché quando i metodi sono forti, un metodo che a tante persone, questo metodo qui, ha pagato tre ambi di fila, come fai ad abbandonare un metodo che ti ha pagato tre ambi? Ti sei messo in tasca tre ambi in tre mesi consecutivi. Attenzione cari amici, 348 75 47 715, il mio numero WhatsApp, mi contattate e mi richiedete informazioni su come avere a vincita venuta la previsione idea vincente. La prossima è pronta già per l'estrazione di questa sera, di venerdì 8. È un metodo mensile, attenzione, la strategia di gioco però cambia. Perché ad ogni estrazione io vado a cambiare la previsione. E alla base c'è una strategia di gioco che ottiene questi risultati. Ottiene questi risultati. Questi sono risultati di grande valore, di tutto rispetto. Sono risultati pazzeschi. Questi sono risultati pazzeschi. Ok? Quindi idea vincente non lo dovete assolutamente perdere. Non lo dovete assolutamente snobbare. Perché su queste previsioni dobbiamo essere in tantissimi. Perché il prossimo ambo ce lo dobbiamo andare a vincere ancora in più persone. Quindi mi raccomando cari amici. Vi ho voluto portare la carrellata ancora una volta degli ambi secchi vinti. Gli ultimi ambi secchi. Perché questo metodo paga da mesi e mesi. Poi comunque l'ho presentato dopo che l'ho studiato come statistica. E quindi questi sono gli ultimi ambi vinti. E per me tutti questi ambi. Per me sono soddisfazioni. Ogni volta che io ogni mese vedevo sortire l'ambo a ruota. E lo vedevo con il cedolino vincente. Vedere il frutto del tuo studio. Sortire sul quadro estrazionale. A colpo secco. Per me è una grande soddisfazione. Per me questi sono tutti ricordi. Per me i cedolini non sono solo che l'utente mi invia il cedolino. Mi fa piacere. Sono contentissimo perché ve lo posso portare in testimonianza. Ma per me sono ricordi. Per me questi ambi sono dei ricordi. Perché ogni mese io ho il ricordo di quella vincita che proviene da un mio studio perché io sul quadro estrazionale ci sbatto la testa per andare a lavorare i numeri. per portarvi dei metodi di questo calibro. Di questa potenza. Quindi per me ogni vincita mensile è per me importante. Quindi l'idea vincente non va assolutamente perso. Perché è un metodo che ci farà ancora sognare. Per adesso un saluto a tutti. Mister Sbankroth.